ragazzi guardate bene questo video perché vi farò vedere una cosa che io non avevo mai visto ma c'è veramente roba assurda ma ci arriviamo dopo ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ultimamente sapete che vi ho parlato di bing x l'exchange che sto utilizzando ultimamente sia per scambiare criptovalute principalmente per i future quindi per farci anche trading ma soprattutto per il copy trading e oltre a bing x mi avrete sicuramente sentito parlare di nebula il nuovo servizio di copy trading che abbiamo lanciato e vi faccio vedere come funziona come sta andando e tutto il resto ma attenzione perché arriva la parte più bella dopo vi faccio vedere una cosa che appunto come dicevo nell'intro secondo me non l'avete mai vista oppure vabbè l'avete vista ma non così da vabbè è difficile anche da spiegare ma però ci arriviamo dopo prima di spostarci a pc e passare appunto al succo del video però vi ricordo di lasciare un bel mi piace l'iscrizione al canale per chi è nuovo e in descrizione vi lascio tutti i link utili sia dell'exchange sia della strategia sia del canale telegram se volete chiedere info e tutto il resto quindi adesso ci spostiamo al pc e guardate bene ed eccoci qua siamo su bing x andiamo subito nella sezione copy trading intanto scusatemi se parlo così ma sono mezzanotte e 48 non so perché sto registrando a quest'ora ma va bene andiamo nella sezione appunto copy trading andiamo a cercare subito nebula che è appunto la strategia di cui sicuramente già avrete sentito parlare su youtube perché appunto con il piano marketing che c'è dietro youtuber networker eccetera ovviamente oltre alla strategia che sta andando bene saranno sicuramente interessati a condividerla ma questo lo potete fare tutti infatti poi descrizione vi lascio un file un geekbook che appunto va a spiegare tutto sia dalla strategia come lavora piano marketing e tutto il resto quindi trovate tutte le informazioni dettagliate lì in descrizione qui adesso andiamo a vedere un attimo una panoramica della strategia ma andiamo a vedere soprattutto cosa è successo sapete quella cosa che vi dicevo all'inizio un po strana diciamo robe stra capitano tutti a noi vabbè comunque sia strategia però degli ultimi 30 giorni più 34 punto 18 per cento come vedete la partenza in copia è stata del 9 maggio quindi è già da un po che è aperta al pubblico tra virgolette rischio 3 ma è aumentato appunto per un dato che è stato possiamo dire compromesso diciamo così ma va bene più 85 dollari è quello che ho fatto io mi sono collegato se non erro con 300 dollari inizialmente il minimo per collegarsi alla strategia è di 250 dollari queste sono le statistiche win rate 88 punto 88 per cento otto operazioni su nove sono andate in profitto una sola in perdita ma ma adesso ci arriviamo perché su sta cosa ci devo ve la devo spiegare per bene la dovete vedere bene posizioni correnti e andiamo a vedere sulle posizioni correnti non c'è nulla tutte operazioni chiuse infatti solitamente la solitamente vanno ad operare in modo da aprire una posizione per volta non aprono solitamente tante posizioni in un giorno alcuni giorni non vanno ad operare quindi diciamo che cercano di operare più in modo preciso piuttosto che aprire chiudere tante posizioni solo per muovere volumi diciamo così andiamo a vedere appunto dicevamo posizioni aperte 0 andiamo a vedere nella storia dei trade perché quale parte si fa interessante allora iniziamo così vabbè un 16 per cento di roi 27 per cento queste queste percentuali sono sul sulla posizione non su tutto il capitale quindi ok ma va benissimo più che bene 27 per cento 31 punto 96 per cento 4 per cento 32 per cento come vedete però i copiatori cominciano ad aumentare 2 2 6 18 18 103 ovviamente non tutti entrano con il minimo che è di 250 la leva la posizione e 20 quando il trader è andato ad aprire la prima porzione di posizione perché l'è andata a mediare con un'altra posizione ha visto che il mercato si è mosso quindi è chiamato e ha detto ragazzi mi sa che ho visto un mercato che ha fatto un movimento strano appena siamo entrati al mercato e noi ma no ma non possiamo muovere sì cioè non possiamo fare movimenti assurdi c'è alla fine si è vero siamo 100 copiatori ma non credo che con leva 20 così 100 copiatori facciamo tutto sto rumore non ci credevamo quasi sarà stata una coincidenza sarà stata una candela che abbiamo visto ha fatto una spike ma va bene va bene quando il giorno dopo e qui il roi doveva essere tipo al 4 per cento quando la sera dopo è andata a chiudere la posizione è arrivato il momento di chiudere la posizione in profitto vi faccio vedere il video di cosa è successo perché ovviamente lui ha avuto e meno male che l'ha fatto sto video perché poi l'abbiamo fatto vedere anche all'exchange effettivamente ci ha confermato adesso vi faccio vedere il video che guardate qua lo sto rivedendo perché una roba io non ho mai visto una roba del genere cioè ovviamente vede questi movimenti di mercato ma solitamente su cose assurde da non pensavamo che potevamo fare una cosa del genere guardate qui chiude la posizione guardate cosa succede ma incredibile ogni volta che lo vedo rimango scioccato e cioè guardate cosa si è creato e ovviamente è successo questo ovviamente non c'era abbastanza liquidità quindi abbiamo visto che su rune l'exchange non aveva tutta questa liquidità diciamo non poteva supportare queste questo tipo di entrata di uscita al mercato e quindi tutti quelli che copiavano diciamo hanno giusto la posizione in perdita adesso non è che abbiano perso così tanto da questa posizione o c'è pure il budget però capite bene che non doveva essere così l'exchange ci ha assicurato che c'era abbastanza liquidità per per aprire posizioni con questo tipo di leva e in questo modo quindi molto probabilmente non vi assicuro nulla loro ci si mettono di impegno perché hanno capito la problematica ragazzi stavo editando proprio il video e guardate qua ci arriva la notizia confermato che ci verrà incontro in questa situazione oltre 10 dollari già distribuiti e rimborseranno questa posizione persa mi dispiace che la statistica qui magari sia stata un tantino rovinata poteva continuare a salire ma va bene lo stesso quindi ci potrebbe essere questo eventuale rimborso ma credo che sia al 90 per cento fattibile perché ha messo tutte le buone intenzioni l'exchange il problema è che se ne siamo così tanti a copiare la strategia capite bene che dovranno cominciare ad operare soltanto su monete che hanno tanta liquidità quindi magari più su bitcoin eterium eccetera magari le prime cinque vediamo vediamo comunque sia nulla di grave diciamo così nulla di grave però c'è chi se l'aspettava che dopo nemmeno una settimana perché l'abbia no ma che settimana l'abbiamo lanciata domenica non è nemmeno una settimana dopo 3 4 giorni dal lancio dove tutti hanno cominciato a pubblicizzare questo copy trading chi si aspettava che riusciamo già a fare una roba del genere però è una parte ovviamente però l'importante è che abbiamo visto che anche da parte dell'exchange c'è tutta la disponibilità quindi questo ci fa capire che sono abbastanza seri perché se era un altro diceva ma chi se ne frega ovviamente ragazzi io continuerò a condividere contenuti e risultati di questa strategia in modo che potete vedere anche voi come va è possibile collegare anche un conto demo in modo da testarla vi ricordo che non sono assolutamente consigli finanziari ma appunto vado a condividere la mia esperienza in questo mondo con voi e soprattutto questa esperienza assurda che ci è capitato perché bellissima da vedere però è importante che vada tutto bene nient'altro da aggiungere ragazzi noi ci vediamo al prossimo video